Ma se avete un problema che nessuno può risolvere, e se riuscite a trovarli, forse potete ingaggiare il famoso... Ehi! Riciclo Team! La cosa più ovvia ora sarebbe farvi vedere il monopattino andare sull'acqua! Buongiorno, a neanche un'ora dalla pubblicazione del video in cui mi rendevo disponibile ad aiutarvi con le aziende qualora avesse avuto problemi, ho ricevuto tantissime tantissime richieste. Vi ricordo, per chi lo stesse seguendo ora e non lo sa, che potete mandare una richiesta aiuto-scuolariciclo.it E cercheremo, insomma, di valutare tutti i documenti che avete e cercare di aiutarvi. Ho ricevuto talmente tante richieste, in veramente un'ora, che potevo avere materiale per registrare per mesi. Ma bene, la storia di oggi parla di una bicicletta che ha preso fuoco, ma attenzione, noi non possiamo sapere molto su questa bicicletta se non quello che riusciamo a vedere dalle foto e dai video che ci ha mandato il cliente. Abbiamo guardato tutti i documenti, abbiamo guardato tutto, ma immaginatevi voi dall'altro lato la ditta che si sente chiamata e si sente dire Ehi, il tuo mezzo ha preso fuoco. Ovviamente le risposte che mi hanno dato, soprattutto all'inizio, non erano molto molto accondiscendenti, proprio per il tipo di richiesta che sono andato a farli, per il tipo di accusa che sono andato a farli. In realtà le ditte si sono poi rivelate molto molto accondiscendenti e vedrete poi in che modo. Allora ricevo una chiamata da questo cliente, dal panico, dalla paura, non riusciva quasi a parlare e provo a spiegarmi qual è il suo problema. Ovvero che mentre andava, la sua bicicletta, di appena un mese, prende fuoco la batteria mentre era per strada e lui si spaventa giustamente di questa cosa, cerca di spengere lì per lì l'incendio, ma insomma la batteria che prende fuoco fa anche danni abbastanza gravi, rendendo ovviamente inutilizzabile la sua bicicletta. Mi chiama proprio spaventato, non sa come muoversi, non sa come districarsi, anche perché ha provato a sentire la ditta in causa, quindi il rivenditore che le ha venduto questa bicicletta, che le ha detto ma ho sentito la ditta, portamela, si spedisce, poi si guarda e tutto. Al che gli dico no, 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 ferma tutto, dammi tutti i documenti, mandami tutti i documenti, cerco di chiamare tutto, di capire la situazione e poi decidiamo cosa fare. Allora, adesso che sto aspettando che mi mandi tutti i documenti a riguardo, già mi voglio fare un'idea, credo che la vicenda sia un pochettino più complicata in questo caso, perché ci sono tre elementi da considerare. Il primo ovviamente è che la bicicletta ha preso fuoco, il che è il più grave è ovviamente quello il primo da gestire, ma non è l'unico, è che su questa bicicletta è stato fatto un finanziamento, per cui il cliente a brevissimo dovrà iniziare a pagare una bicicletta che lui in questo momento non ci può fare assolutamente nulla. E quindi qua giù sono già due entità diverse, perché il responsabile della bicicletta canale a fuoco è la BIP, mentre invece quello del finanziamento è il negozio. Per cui mi voglio studiare per prima cosa le condizioni contrattuali di tutti loro, quindi perderò un po' di tempo. Benvenuto in Compass Inutile dirvi che ho provato più e più volte a chiamare la Compass, ma non sono mai riuscito a parlare con qualcuno, anche perché hanno fatto questo sistema automatico e robotizzato di inserisci il codice, inserisci il PIN, inserisci questo, che rende tutto veramente molto molto complicato se qualcuno vuole cercare di aiutare qualcun altro telefonicamente. Sì che non mi restava che mandargli una mail, ma non mi interessava troppo parlare con Compass, perché ovviamente potevano essere interessati a annullare il finanziamento, ma la voce comunque sia di richiedere di annullare il finanziamento doveva partire da qualcun altro, dal concessionario che ha venduto la bicicletta. Adesso voglio parlare con la BIP, che è la ditta che ha importato questa bicicletta. Voglio capire se era mai successo prima, se è una cosa che hanno già visto, che gli era già successa, se poteva essere un difetto di fabbricazione, quindi da fare un eventuale richiamo su altre biciclette, o comunque sia se avevano già intenzione di trattare la cosa in qualche maniera. Per cui per prima cosa chiamo loro. Salve, molto buongiorno. Senta, io sono Alessio, l'ho stato contattato da un cliente che ha acquistato un vostro prodotto nella provincia di Milano e che gli avrebbe preso fuoco mentre andava. Ora, volevamo capire se c'era la disponibilità da parte vostra a sostituirle in mezzo, insomma, a dargli un altro mezzo. Non ho capito allora. Mi dica. Un cliente a Milano... In Sicilia, un cliente avrebbe acquistato un mezzo vostro, di vostra proprietà, che è un prodotto, una bicicletta elettrica, presso un concessionario. Ora, però, questo mezzo, mentre andava, gli ha preso fuoco a distanza di un mese da quando l'ha acquistato. Io, se vuole, ho il nome e il cognome, non so se voi vedete voi. Che cosa si è incendiato? Mi faccia capire. La batteria. La batteria avrebbe preso fuoco bruciando, insomma, praticamente... Da solo ha preso fuoco la batteria? Così mi riferisce al cliente. Stava sotto carica o... No, mentre andava. Mentre andava, ha detto, ha affrontato una salita, c'era un po' di caldo e la batteria ha preso fuoco e si è sciolta la bicicletta. E che cosa... che cosa mi chiede lei? No, guardi, cioè, io sono qua giù in completa trasparenza, nel senso che il nostro canale YouTube vuole tutelare un attimino i consumatori e quindi gli acquirenti. Quello che voglio capire è se da parte vostra, vista la gravità, comunque sia della situazione, c'è un'intenzione di risolvere la situazione e venire contro al cliente... Insomma, non... No, siccome il proprietario ha contattato dapprima il rivenditore... Sì, scusi, deve essere fatto tutto via, perché ci devono essere i riscontri, ok? Non fa da parte vostra... Sì, allora, per me non ci sono problemi, il discorso mio è soltanto che, come le dicevo, io non sono uno studio legale, noi siamo un canale YouTube. Voi siete un canale YouTube? Scusate, che cosa... perché chiamate da parte di questo cliente? Perché io, vi ripeto, non so niente, non è che mi ha chiamato il cliente e mi ha detto qualcosa... Vedi come dovrebbe essere una risposta? Cavoli, quello che mi sta denunciando è veramente molto gravissimo, mi prendo io la responsabilità di quello che sta dicendo, mi mandi pure tutte le segnalazioni, ci mancherebbe, le faccio avere una bicicletta nuova. Questa è una risposta che dovrei sentirmi dire, non invece, ma lei cosa vuole, ma perché, ma mi mandi, voglio prima vedere le foto, secondo me non è vero quello che sta dicendo. Senta, a lei è anche il numero, perciò non andiamo avanti, io ce l'ho detto, io l'ho fatto la ricerca, si può fare tutto, ma deve essere no a telefono, perché il telefono ti fa via il mail, via te. Dopo lei può richiedere quello che è, ci sarà una risposta per ogni ricerca, la sostituzione della bici, sia opportuna, tutto quello che vuoi. Ma adesso a telefono che cosa ne dico? Un gioco non la conosco, non riesco a capire, mica l'ho detto no, io ho detto tutto deve essere fatto via lì, le foto della bici, ce l'ha lei? Certo che abbiamo le foto della bicicletta. E mi mandi anche le foto, inizio a mandarmi qualcosa, le faccio vedere all'amministrazione, ai tecnici, eccetera, non è il problema, c'è nessun tipo di problema. Mi vuole segnalare la sua fecca? Allora, la tec, lei mi scrive chi è, che cosa ha notificato, che cosa è successo, delle foto. Nessun problema a dare tutta questa documentazione, voglio solo sottolineare che non tutti i clienti privati sono datati di PEC, per cui come metodo di segnalazione non mi sembra il più trasversale, però non ci sono problemi, le faremo la segnalazione su questa metà. Allora io le ripeto un'altra volta, ma lei? No, chi è? Scusi. Io a telefono come faccio a sapere lei chi è? Lei si è presentata, ma non la conosco, è una telefonata, invece via e-mail, lei è già diretta, è una cosa certificata, è capito? Mi può chiamare chiunque, io non posso. Più trasparente del nostro canale YouTube, non credo ci sia altro, comunque sia, nessun problema, mi presenterò tramite PEC. Il nostro canale YouTube, così io nel frattempo abitiamo anche i nostri legali, mi viene il canale YouTube, com'è il nostro canale YouTube? Riciclo? Esatto, riciclo. Riciclo il canale YouTube, così io giro anche i legali che abbiamo avuto questa parola, se loro ritengono opportune altre notizie, la faccio chiamare, riciclo allora il suo canale YouTube. Ok, mi inviva PEC, va bene? Va benissimo, la ringrazio. Salve, qual'è una buona giornata? Leggermente sulla difensiva. Da notare il mi dia i dati del suo canale YouTube che così attiviamo i nostri legali, per cui mi aspetto tra poco una richiesta da parte loro. Bene, a parte questa risposta, adesso è arrivato il momento di chiamare il rivenditore, anche perché il rivenditore aveva detto al cliente di aver già parlato con la Lime Motors, ma a quello che ho sentito quando ho parlato con loro invece non sembrava che loro fossero a conoscenza dell'evento. Per cui, sentiamo cosa mi dicono. Salve, molto buongiorno, sono Alessio del canale YouTube Riciclo. Sì? Sì, salve. Senta, noi siamo stati contattati da un vostro cliente che ha acquistato un mezzo lì da voi e che, come probabilmente saprete, insomma, gli ha preso fuoco. Non ho capito, mi scusi, lei chi è? Io sono Alessio del canale YouTube Riciclo. Sì? Ok, sono stato contattato da un vostro cliente che, suppongo, lo sappiate già, gli ha preso fuoco la bicicletta mentre andava. Eh, sì, mi ha chiamato. Ok, perfetto. L'unica cosa è che voi non avete segnalato la cosa alla Lime. No, noi l'abbiamo già segnalato e devono venire a ritirare la bici. Mmh. Ma, eh, senta, perché in realtà noi, essendo il canale YouTube, siamo un attimino a cercare di tutelare il cliente e gli abbiamo suggerito alla bicicletta di non darvela. Perché, eh, va bene tutto, però è anche l'unica prova che lui ha in mano, se viene fatta sparire quella, nessuno più ha prove di nulla, per cui gli abbiamo noi consigliato di non darvela assolutamente alla bicicletta. Quindi, io ho chiamato ora la BIP prima di chiamare voi. Non erano a conoscenza di nulla, metteteci pure l'advocato. No, non è vero proprio niente, ho i messaggi, ho tutto. Oh, con chi ha parlato lei, mi scusi? Guardi, con il numero che ho trovato per il servizio dell'amministrativo, il numero che c'era per l'amministrativo. È un numero, Whatsapp, le lo dico subito, era un... No, guardi, le do il numero del titolare proprio dell'azienda, se vuole. Ma comunque io a lei non la conosco, io non ho capito chi è lei, quindi tutte queste informazioni, dico, perché le devo dare a lei? Non ho capito chi è lei. No, allora, glielo ripeto, nessun problema. Io sono Alessio, del canale YouTube Riciclo. Quindi è un canale YouTube dove solitamente trattiamo mezzi elettrici, trattiamo di modifiche, di riparazioni, e ultimamente abbiamo trattato questo nuovo format di assistenza ai clienti che non sanno dove andare a parare, ok? In questo caso... Guardi, intanto il cliente è venuto presso un rivenditore autorizzato e siamo stati disponibili noi a intervenire senza nessun problema. Ed effettivamente qua giù non era propriamente colpa del rivenditore, perché mentre noi stavamo aprendo una nostra strada, un nostro percorso di assistenza al cliente, anche il rivenditore aveva parallelamente aperto, contemporanea a noi, un suo percorso di assistenza. I due percorsi però erano distinti e non era a conoscenza il rivenditore della nostra, né esistenza a questo punto, ma soprattutto del nostro percorso di aiuto. Ecco perché il rivenditore in questo momento era un pochettino più sulle difensive. Da un lato, giustamente, non aveva idea di chi fossimo noi, non aveva idea che il cliente con cui si era relazionato fino a cinque secondi prima si restesse relazionando anche con noi, per cui entrava in questo momento a conoscenza della cosa. Per cui non capisco il suo intervento. Il mio intervento nasce dal fatto che, secondo me, non bisogna intervenire andando a riparare o ritirare il mezzo, ma in primi se li vado a... Non sono d'accordo, no. E non è d'accordo lei, ma io devo essere col cliente, non... Io ho raccontato il cliente e mi dico che mi ha contattato non so chi, e sto parlando con non so chi. Vedete quello che vi dicevo, il rivenditore aveva parlato con... Aveva aperto il suo percorso e ne aveva già discusso con il cliente finale. Il cliente finale gli aveva già detto di sì, era già d'accordo per seguire questo percorso, per cui adesso, questa telefonata, giustamente il rivenditore non capiva il senso. Vabbè, sono sempre Alessio, sempre del canale YouTube, lo può contattare senza nessun problema. Ma io non la conosco, lei mi può dire che è il Papa, ma io non la conosco, ha capito? Vabbè, allora vede quello che le sto dicendo, che se il cliente consegna il mezzo... Io ho da fare con il cliente, non con lei, io non la conosco. Allora, se lei... Io sono ritenuta a dare delle spiegazioni a una persona che non conosco. Ok, mi scusi, però se lei è dalla parte del cliente, dovrebbe essere d'accordo con il cliente che mandare il mezzo al... È la cosa più sbagliata da fare. Sarà d'accordo con questa soluzione? Ma scusi, noi abbiamo una fattura di emissione e una fattura di acquisto, quindi non capisco qual è... qua nessuno sta marciando sull'osco. Dico, questa, tutta questa prevenzione non la sto capendo, dico, ah, se noi siamo aperti a 360 quanti... Scusi, ma perché per lei è una cosa... Non capisco questo intervento tramite persone che io non conosco, dico. Mi scusi, ma perché per lei è una cosa normale che le biciclette vadano a fuoco? Allora, innanzitutto, non è... dobbiamo vedere il cliente che problema ha avuto con la bicicletta. Per me non è una cosa normale e ovviamente non mi è mai capitato e infatti ho chiamato la bicicletta, ho girato tutto quanto e mi... Tranquillamente, dico, non è la prima bicicletta che la bicicletta vende. No, non lo metto in dubbio, infatti io, siccome... Non è successo qualcosa già prima, che io non sappia. Allora, siccome non ne sono a conoscenza, per me la cosa è gravissima, in questo caso secondo me... Ma certo che è gravissima, ma come di fatti abbiamo già parlato con il titolare della... Stamattina, guardi, le dico pure l'orario, non c'è problema, qua siamo delle persone serie, da parte del cliente ci sta tutto, ecco qua. L'ho mandata stamattina quando mi... 12.05. Non lo metto in dubbio, guardi, io non metto in dubbio il suo operato, sto solo dicendo che... Ma mi dico lei, io sto parlando sempre con una persona che non conosco. Ma infatti, quello che sto dicendo è che... Allora, quello che sto dicendo è che a livello di aiutare il cliente, la cosa più idonea, secondo me, è appunto primo farsi mandare un'altra bicicletta, scusarsi e dargliene una nuova. Questo in primis, dopodiché ragionare, anche perché questo cliente ha sottoscritto un finanziamento da voi. Ma guardi, ma questo è già a prescindere dalla discussione che stiamo facendo. Scusi, però a prescindere, non è che li avete chiamato e gli ha detto certo, vieni qua, un'altra, un'altra bicicletta, poi dopo... No, no, ascolti, lei praticamente, lei sta parlando, ma lei ha discussione con una non la sa. Io ho chiesto di venire qua direttamente, vieni, mi ha detto io non posso venire, vieni stamattina, ne parliamo di presenza, dicono, non è che io ho detto altro, non c'era, secondo me, secondo me, secondo me, però la stiamo portando sul livello un pochettino diverso. Se non c'è, ma se non c'è, ma se non c'è, non c'è, non c'è bisogno di parlare in sede o non in sede, cioè qua giù stiamo parlando di... Lui viene qua, la compra da qua, la bici viene in sede, ne parliamo in sede, dico... Allora, quello che chiedo però io... Non è che non conosco, dico... Guardi, non voglio fare polemiche, non voglio assolutamente ritrovarmi a discutere, quello che voglio capire è, siete disponibili voi eventualmente a contattare la Compass e intanto fermare da questo punto di vista il finanziamento che il cliente ha fatto? Innanzitutto io non sono venuto a rispondere a lei, le ripeto, io sono venuto a contattare il cliente... Va benissimo, se vi mandiamo un'email con tanto di delega suppongo che a quel punto sarà disponibile... Io ne parlo con il cliente e la saluto, è stato un piacere ascoltarla, va bene? Allora, quello che voglio capire io è se voi siete disponibili a bloccare il finanziamento... Sì, pronto... Eccoci... Molto buongiorno... Mi hai fatto rimproverare... Rimproverare te, no? È indiscutibile... Ti ha chiamato adesso la... Non immaginavo, per questo ti stavo chiamando anch'io proprio perché mi immaginavo che ti avrebbe richiamato... Ti ha detto, mi hai fatto chiamare dalle persone che io non conosco, tu non ti preoccupare, io non ci sono problemi... No, guarda, allora io ti fermo solo per una cosa, ovviamente la decisione finale su tutto spetta a te... Per cui se ti viene fatta una qualunque tipo di proposta sei liberissimo di accettarla, ok? Per cui non ti obbligo ovviamente a fare niente, né a dire niente, né insomma a non prendere determinate decisioni... Io però ti faccio solo il punto della situazione di quella che abbiamo fatto finora... Abbiamo provato a parlare con la Compass ma non mi ha risposto... Sono andato a chiamare prima la... E mi hanno detto che non sapevano nulla della situazione, che vogliono prima le foto eccetera eccetera e vedere un sacco di cose... Al che io ho chiamato GITS.primo per capire se erano intenzionati a bloccare loro il finanziamento della Compass... Mi hanno detto io non ti conosco, non so chi sei, con te non ci voglio parlare... Mi hanno detto sono già d'accordo con il cliente che mi deve riportare la bicicletta, quando me la porta poi la spedisco la... E vediamo... E ho detto no, se sei dalla parte del cliente non dovresti accettare una cosa del genere... Ho detto piuttosto... Ho detto mi dici blocco il finanziamento, intanto gliene do un'altra... Poi se si trova bene e non esplode... Prossimo mese casomai me la paga... Ho detto questo è un modo di ragionare, non che prima lì si manda la... E poi non c'è nulla a mano... Non lo pungi, mi arriva la prima rara da pagare... Appunto per questo, chi meglio può chiamare la Compass e dire oh fermati tutto perché il prodotto che l'ho venduto ha preso fuoco... Secondo me il modo di ragionare è questo... Il finanziamento si annulla, così il cliente intanto non ci deve dare nessun sordo... Intanto me ne faccio dare un'altra di bicicletta... Poi dopo le mando indietro questa... Secondo me sono queste le fasi da seguire... A questo punto della vicenda si rende obbligatorio e necessario mandare un'email e decido di mandarla a tutte le parti in causa... Quindi sia alla Compass che al concessionario che ha venduto la bicicletta che alla... E a tutti e tre mando in realtà la stessa mail... La mail che li mando è la seguente... Molto buongiorno sono Alessio del canale YouTube Riciclo con il link del canale YouTube... Siamo stati contattati da un vostro cliente per una problematica inerente a un prodotto... E vorremmo capire se c'è interesse da parte della vostra azienda a risolvere questa scomoda situazione... Il nostro canale YouTube tratta spesso con prodotti di questo tipo... E tutti i nostri iscritti potrebbero rimanere piacevolmente colpiti da un atteggiamento positivo e propositivo... Tanto da dare ancora più fiducia nel vostro marchio... Se resterete piacevolmente colpiti dai nostri video... Potremmo in futuro parlare di un inserimento dei vostri prodotti ai fini commerciali all'interno dei nostri video... I nostri recapiti e via... Bene a questa mail in realtà soltanto... Mi risponderà e adesso vediamo poi la risposta... Ma qualcosa di positivo è successo... Mi sembra ottimo però... Mi sembra delle ottime cose... Tanto sei lì dili che eventualmente oggi pomeriggio gli ridiamo un chiamo... Ma solo così... Non ti dico per scusarci del tono aggressivo... Però insomma per mettere i puntini su lei... Ti chiamo io fa 10 minuti o 4 ore... O eventualmente rifaccio il messaggio... Va benissimo... A più tardi... Ottime notizie... Dai... Buongiorno... Sì... Ciao... Buongiorno a te... Io con i clienti non... Non ho nessuna... Diciamo... Nessuna regola... Io tutto quello che è è per i clienti... Io sono qua... Dico... Ieri... Io giustamente ti ho risposto in quel modo... Perché ripeto... Non ti conosco... Non ero tenuta a risponderti... Ma tranquilla... Sono proprio tranquillissimo... Mi ha accennato il cliente... La proposta che gli avete fatto... Mi sembra proprio ottima a risolvere il problema... Per cui... La cosa più propositiva che ho sentito per ora... Quindi che trovo dal lato tuo... Proprio fatta con... Con interesse verso il cliente... E questa è una cosa che apprezzo tantissimo... Per cui... Ti ringrazio di questa cosa assolutamente... Ora sto parlando poi con la... Perché risolgo... Sì, sì, sì... Io guardo... Ho già scritto ieri... E stamani mi hanno risposto... Proprio di prima mattina alle 8... Con una mail... Dicendo che sono già in accordo con il cliente... Su come risolvere la cosa... E io... Le ho puntualizzato... Che appunto... Risolvevano in maniera solo parziale... Quello che andava poi risolto... Sempre al cliente... Il fatto che fosse ancora senza mezzo... Senza considerare poi insomma... Lo spavento... La paura... Tutto quello che c'era... Ma l'importante era soltanto... Insomma risolvere almeno... Lato mezzo... E quindi gli ho detto... Cercate un attimino magari... Di offrirgli o un altro mezzo... O in alternativa... Una scontistica magari... Particolarmente accentuata... Sull'acquisto di un mezzo più di prestigio... Però vedete un attimino voi... In caso mai... Se lui vuole la bicicletta... Dunque... Mandagliela... Un'altra mail... Anche... Facci parlare con loro... Vediamo... Oggi loro mi chiamano... E gli faccio questa altra proposta... Magari gli diamo una bici più... Una bici superiore a questa... E vediamo cosa ci dice... Va bene? Va benissimo... Ti ringrazio... Ti ringrazio davvero... No... Grazie a te... E scusami per ieri... Vai tranquillissimo... 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 Ciao... Buona giornata... Ciao... Ciao... Molto buongiorno... Sono Alessio... Del canale YouTube Ciclo... Sì... Ciao... Sì... Ciao... Guarda... Ci siamo scambiati anche delle mail... Non so se ho parlato con te... So che il cliente si sta già accordando... Per quanto riguarda... Lato economico... Lato commerciale... Insomma... Con il negozio... E questo... Ci va bene così... Quello che però... Volevo sapere da voi... Se posso avere magari... Per il canale... Insomma... Questo impegno... Nel... Approfondire... E capire se questo è un difetto di fabbricazione... Magari... Un problema che poi... Ma non è un difetto di fabbricazione... Perché non è che ci sono stati casi... Il mail che ci è arrivata... È la segnalazione... L'abbiamo fatta già alla fabbrica... Ok... E questo... È sicuramente un segnale positivo... Abbiamo scritto che... È solo un caso... Certo... Ok... Guardi... Questa è la cosa che mi fa più piacere... Mi fa piacere sapere questo... No... Le persone che si... Che si devono far male con una bici... Oppure devono rischiare... Ma... Siamo schizzando... No... Certo... Quello che volevo capire... È che la batteria di per sé stesso... Cioè la pila... La pila... La cella... Anche sotto il sole... O sotto una fonte di calore... Da sola non esplode... Esplode quando si ha un cortocircuito... Magari dovuto... A un distanziale utilizzato... Non idoneo... Ma... Non parliamo del... Allora... Non faccia... Non faccia confusione tra litio e piombo eh... No no... Parlo al litio... Io sto parlando di litio... Il distanziale tra le varie celle di litio... La prima causa dell'esposione della batteria di litio è il sole... È la fonte di calore... Il sole... Sì... Ok... Veda... Faccia... Stagini anche lei... E' giusto anche per... Diciamo... Confrontarci... Vabbè... Più che volentieri faremo questa prova... Le dico la verità... Mi sta dicendo una cosa che per me... È una novità... Per cui... Sì... È un tecnico... Oltre a gestire il canale YouTube... Io non sono un tecnico... Sono riciclo... Sono un tecnico... Sì... Sono un tecnico... Ok... Allora dovrebbe saperlo... Le dico la verità... Non mi è mai capitato che l'esposizione al sole... O una fonte di calore anche diretta... Provocasse l'esposizione di una batteria... Però mi documenterò... Anche del cellulare... Se lei mette il cellulare del sole non esplode... Infatti non metto in dubbio che sia... Gran parte dovuto al calore... Gran parte... Eh... Infatti noi la ritiriamo la bici... La bici comunque non la ritiriamo... E la facciamo utilizzare... E questo mi fa moltissimo piacere... L'importante da parte mia è soltanto di sapere... Che la vostra ditta... Prende in considerazione il caso... Come intanto uno... Qualora si dovessero riverificare... A prescindere che contattate il vostro fornitore... Però vi impegnerete... A magari una lettera di richiamo... Ecco tutto qua... Certo... Certo... Noi abbiamo... Allora queste bici... Cioè abbiamo tutte... Diciamo segnalate tutte con... Con il codice... Certo... L'abbiamo che l'abbiamo consegnata... La bici da quante entrate... Anche abbiamo tutto... Perfetto... Mi fa molto piacere... Allora... Tal riguardo... Vorrei fare una puntualizzazione... Perché... Appunto... Dall'altro lato mi è stato detto... Che l'esposizione diretta al sole... Fa sì che le batterie... Possano esplodere... Ora non è... L'esposizione diretta al sole... Perché... Non mi pare di aver visto... Di tante Tesla... O tante... I D3... O comunque sia tutte le auto elettriche... Che ci sono in questo momento in circolazione... Lasciate parcheggiate al sole... Che prendono fuoco da sole... Quindi... Non è l'esposizione diretta al sole... E non è che bisogna andare a giro... Con l'ombrellino... Ogni batteria... Ha una temperatura... Per cui... Può lavorare... Dopodiché diventa pericoloso lavorare... Non tanto per la batteria in per sé stesso... Perché... Nel limite proprio della sua funzionalità... Non funziona più... O non riesce a erogare abbastanza... Ma... Quanto perché... Se le batterie... Come in questo caso... Non sono dotate di distanziali... E sono attaccate con l'Atac... Come vedete... Tra di loro... È molto probabile che con il calore... Anche solo del sole... Che magari raggiunge quei 40-50 gradi... Vada a far fondere il termorestringente... Le batterie toccandosi tra di loro... Fanno un cortocircuito... Che poi... Sprigionano l'esplosione... E tutto quello che ne deriva... Ma... Voglio fare insieme a voi una prova... Quindi qui davanti ho un phon termico... Vedete che se invece c'è un distanziale... Ad esempio di plastica... Le batterie rimangono comunque sia... Distanti fra loro... Non si toccano... E quindi non hanno fuoco... Facciamo una prova con il phon davanti... E guardiamo se in un breve periodo... Perché il phon raggiunge più di 200 gradi... Mentre il sole... Comunque sia stando sotto il sole... 40-50 gradi... Quindi... Quaggiù si parlava di 4 ore sotto il sole... Noi proveremo... Qualche secondo sotto il phon... Se provoca un'esplosione oppure no... La sicurezza prima di tutto... Quaggiù abbiamo un estintore... Che metto da parte... Se dovesse servire... Qualora dovesse servire... Quaggiù abbiamo una pila... Quaggiù abbiamo il nostro phon termico... Che adesso vado ad accendere... Già ustiona... E andiamo a sottoporre la pila sotto... E vediamo se esploderà... La pila... Inutile dirlo... Ustiona... È veramente incandescente... Tuttavia... Come avete visto... Sottoposta per quasi un minuto... Sotto una temperatura... A circa di 200 gradi... Non è esplosa... Quindi non è il calore... Diretto... Che va a rovinare la pila... O che la fa... Esplodere... Direttamente... Non è prettamente il calore... Di una singola pila... Perché la singola pila... Va a rovinarsi... Ma non a esplodere... Per il calore diretto... Ma il motivo principale... Delle esplosioni... Sono i distanziali... Se non vengono utilizzati... Adeguati e dovuti... Distanziali... Tra le pile... Le pile che si vanno a toccare... Fanno cortocircuito... Tra il positivo... E il negativo... E vanno a esplodere... Quindi i motivi... Secondo me... Per le esplosioni... Sono prettamente... Per i cortocircuiti... E se volete approfondire... Cose come questo... Quindi la sicurezza... Sulle pile... Come vanno adoperate le pile... Non solo le pile... Centraline... Motori... E tutto quanto... Vi invito a iscrivervi... A Scuola Riciclo... Dove trattiamo... Di tutti questi argomenti... E tutti questi argomenti... Vengono appunto... Presi in considerazione... E facciamo esperimenti... Di questo tipo... Bene... Facciamo dunque... Un punto della situazione... Su quello che è successo... Dunque... Il rivenditore... Dopo un primo... Momento in cui... Non sapeva chi ero... Stava già gestendo la cosa... Per conto proprio... Per cui... Non sapeva... Come... Come... Come integrarmi... In tutto questo... Non sapeva... Quale doveva essere il mio ruolo... Quanto volevo andarlo ad attaccare o meno... In realtà... Dopo ha riconosciuto tutto... E in accordo con il cliente... E in accordo con... PIPERS... Hanno fornito un mezzo... Anche di qualità superiore... Al cliente... Si ritireranno... PIPERS... Il mezzo... Per ispezionarlo... E studiare un attimino la situazione... Quello che è successo... Come mai... È successo... Hanno... In accordo comune... Anche annullato... Il finanziamento... Al cliente... Che quindi... Non si troverà costretto... A pagare... Nessuna bicicletta... Quindi... Una super disponibilità... Sia da parte... Della... PIP... Che anche... Dal lato del rivenditore... Che ha venduto la bicicletta... A venire incontro... Al cliente... Soprattutto... In una tempistica... Veramente... Veramente... Velocissima... Da... Questo punto di vista... Forse anche... Perché le abbiamo chiamati noi... Ma probabilmente... Avrebbero fatto anche... La stessa cosa... Per conto loro... Sono stati veramente... Veramente... Velocissimi... Considerate che... In meno di 24 ore... Hanno risolto... La problematica... Al cliente... Quindi... Veramente... Un ottimo... Ottimo feedback... Per il loro comportamento... Dunque... Ho parlato... Con... PIP... Che hanno detto... Che finora... Non gli era mai capitato... Il che... Comunque sia un segnale positivo... E che hanno già avvisato... La fabbrica che produce... Le batterie... Qualora... Si verificassero altri problemi... Insomma... Di verificare... E indagare meglio... Sul tutto... Hanno detto... Che per ora... Essendo un unico caso isolato... Non credono... Di dover... Fare... Né richiami... Né altro... Perché per ora... È tutto in sicurezza... Il che... Ci rassicura... Da un lato... Qualora abbiate... Qualunque tipo di problema... Vi invito a... Segnalarlo a me... O a... PIP... Ma... Magari forse è meglio... PIP... Che dovrebbero... Raccogliere... Le vostre segnalazioni... E... Eventualmente... Aprire... Un... Un richiamo... Ma... Probabilmente... Non ce ne sarà bisogno... PIP... Potrebbe... Dato che non hanno ancora... Il mezzo in mano... Potrebbe essere... Stato causato... Dal sull'iscaldamento... Dovuto magari... All'alte temperature... Che ci sono state... In quel periodo... In Sicilia... Vi ho fatto vedere... Secondo me... Come mai... Questo... Non tanto per la pila... Per il calore... Sulla pila... In per se stesso... Ma sui distanziali... Non lo so... Perché non ho preso in mano... Queste batterie... Per cui non posso essere certo... Di questa cosa... Ma secondo me... È molto molto probabile... Che il problema sia dovuto... Al tipo di distanziale... Che è stato utilizzato... Che magari... A 40 gradi... 50 gradi... Inizia un pochettino a sciogliersi... E quindi... A non essere più... Adeguatamente sicuro... Bene... Io spero che il video... Sia stato di vostro gradimento... Se avete altri problemi... Altre segnalazioni... Mi raccomando... Segnalatele... A aiuto... Chioccio a scuola-riciclo.it... Noi ci vediamo alla prossima... Molto buongiorno... Grazie a tutti... Grazie a tutti... Grazie a tutti... Grazie a tutti... Grazie a tutti...